Benvenuti agenti 00B e 00G, la vostra è una missione speciale. Per questo, anche se vi chiamano con tanti nomi, polistirolo, polistirene, espanso, eccetera, adotterete il nome in codice di EPS. Siete qui per risolvere un problema. Il temibile freddo sta insidiando una casa priva di isolamento adeguato. Inutile dirvi che ciò comporta un grande spreco di denaro e di energia, ma voi siete i migliori nel vostro campo. L'85% del settore vi ha scelto e per questo siete qui. Con le vostre speciali capacità porterete a termine la missione Cappotto. Siete pronti? Prontissimi, capo. Lo sa che siamo tagliati per il successo. Eccoci qua, sempre di corsa. Respira, 00B. Ah, guarda, come respirano i miei pannelli, lo sanno tutti. Per questo li scelgono, rifletti. Dici a me di riflettere, che con i miei pannelli grigi rifletto come nessun altro. Hai ragione. Bene, adesso cosa facciamo per questa casetta? Guarda com'è fredda. Forse hanno usato un semplice cappottino di lana. Bah, roba fuori moda. Mica come noi. Eh già, qui la vedo grigia. Meglio così, 00B. Il grigio è la mia arma segreta. Tecnologia d'avanguardia. Cosa credi? Ehi, non scaldarti troppo. Tanto lo sai che siamo autoestinguenti. Ma adesso, diamoci da fare. Con i miei pannelli bianchi di EPS, avvolgerò questa deliziosa casetta, offrendo leggerezza, traspirazione e eliminazione di muffe e condensa. E con i miei pannelli grigi di EPS, posso farla felice, aggiungendo resistenza, impermeabilità e lunga durata nel tempo. Anche con meno spessore. Grande! Siamo proprio una coppia dalle mille risorse. Controlliamo. Fantastico. Isolamento costante. Zero ponti termici. Più efficienza. Più risparmio. Anche stavolta, noi EPS abbiamo fatto 100. Tanto di cappetto. Di più. Tanto di cappotto. Bravissimi agenti EPS00B ed EPS00G. Avete portato a termine la vostra missione con successo. Vi siete meritati anche questa volta la licenza di isolare. E' il nostro massimo riconoscimento. Mister cappotto. Il cappotto con pannelli di EPS, polistirene espanso sintetizzato, è il sistema di isolamento termico ideale per le nuove costruzioni e le riqualificazioni energetiche. In inverno e in estate, protegge l'edificio sia dal caldo che dal freddo, garantendo il massimo comfort ambientale e abitativo, oltre a una sensibile riduzione dei consumi e dei costi.